Il passaggio dalla Porta Santa del Vescovo Monsignor Fausto Tardelli, seguito dai fedeli, che hanno assistito alla Messa di Pasqua nella Cattedrale di San Zeno a Pistoia. Che cosa cerca ogni uomo e donna di questa terra, ha sottolineato Monsignor Tardelli nell'Omelia. Alla domanda non è poi così difficile rispondere se ci si guarda dentro. Cerchiamo felicità, stare bene, in salute, avere a disposizione dei beni per una vita dignitosa e libera, desideriamo libertà e pace, ma soprattutto rispetto e comprensione. Tutti noi cerchiamo una vita piena, armoniosa, piena di amore, donato e ricevuto, ma alla fine tutto si infrange nella morte che viene a spezzare ogni sogno, ogni legame, ogni prospettiva. Ma di fronte a tutto questo si è escogitata una via d'uscita, tutt'umana. La troviamo già ben espressa da un poeta antico, Orazio, con il Carpe Diem, afferra l'attimo che ti ha dato, ripresa poi da Lorenzo il Magnifico, quando è bella giovinezza che ti fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questa soluzione è la via dell'accontentarsi, la via rinunciataria, è quella di farsi una corazza spessa, per cui ogni cosa ci passa sopra. Appare anche una soluzione nobile, continua Tardelli, perché prende la vita così com'è, accettando che non ci sia un senso per la nostra esistenza. Il messaggio cristiano però è un altro, ha sottolineato Tardelli, è quello che oggi annunciamo al mondo. Cristo è risorto dalla morte. L'annuncio della Pasqua cristiana è tuttora chiuso dentro a questo fatto reale, affidato esclusivamente alla fede. Noi cristiani crediamo in qualcosa che sfida la stessa ragione e che può sembrare assurda, qualcosa che va contro la nostra stessa evidenza quotidiana, ma è qualcosa che dà un senso a tutta la nostra esistenza, la risurrezione.